Melograno Art Gallery The New Way of Experiencing Art Secondo il governo, i marziani non rappresenterebbero alcun pericolo per la popolazione locale. Si invitano i cittadini a non fare scorta di cibo e di acqua. La nota prosegue sottolineando che per ora non sono previste interruzioni dei servizi primari, quali l'ultimo, gas ed acqua. Autore dei sottolinei Autore dei sottolinei Autore dei sottolinei